Rieccoci in studio ed è arrivato il momento di dare il bentornato a un'altra amica del Chilimangiaro, una scienziata. Ebbene, all'inizio di quest'estate è uscito il suo primo libro che si chiama Misurare la storia. Eccolo qua, edito Raffaello Cortina, editore. Lei è Sara Talamo, ma benvenuta! Grazie, Cang. Allora, perché ci teniamo molto noi del Chilimangiaro a questo libro? Perché un po' ci sentiamo, madrine e padrini, tutti, la redazione di questa nascita, di questo progetto. Perché in qualche modo è successo che tu sei venuta durante l'edizione del Chilimangiaro a raccontare questa scoperta. Credo che tu l'abbia raccontata per la prima volta qui da noi. Esattamente. Questa scoperta del Radio Carbonio 3.0. Rarissima. L'hai raccontata per la prima volta qua al Chilimangiaro. Ti hanno sentito e hanno detto facciamo il libro. Assolutamente è andata così, quindi tutto meritato, garanti. Facciamo un passettino indietro perché magari chi ci segue si perde io in primis. Che cos'è il Radio Carbonio? Il Radio Carbonio 3.0, diciamo, è appunto l'orologio atomico per eccellenza che ci permette di datare materiale organico. E soprattutto va indietro fino ai 55 mila anni. Ecco, allora esatto. Cioè praticamente il Radio Carbonio 3.0, io traduco, serve a datare gli eventi della storia. In maniera molto più precisa di come si fosse fatto fino a questa scoperta di Sara Talamo. È così. Perché misurare la storia? Perché lei la va a misurare, diciamo, con uno span di errore assai ridotto rispetto a prima. Ho studiato? Bravissima, bravissima, veramente. Che emozione! No. Sentirlo dire da te è un'emozione. No, perché mi ricordavo che cosa succede che noi non sappiamo. Quando noi studiamo la storia, gli storici, più o meno questo succede nel 574 avanti Cristo. E prima del Carbonio 3.0, qual era lo span di errore? Quanti anni? Allora, noi, aspetta, dobbiamo dire che noi stiamo parlando di un periodo di tempo intorno ai 42.000 anni fa. Esatto, quindi quanto era? Sì, certo. Di 1700 anni. L'errore. Ovviamente più ci si avvicina ai nostri tempi, meno l'errore. Certo. Adesso ho fatto un esempio sbagliato. Quindi 42.000 anni fa c'era uno span di errore di 1000 anni. 1700. 1700 anni. Con il Radio Carbonio 3.0 questo errore si è ridotto a? 300 anni. Un nulla, un nulla, veramente. Ed è stata la prima volta in assoluto. Ecco, e così abbiamo spiegato in maniera potabile che cos'è il Radio Carbonio 3.0 senza, cioè che lo possiamo comprendere tutti. Ora, da quello che ho capito voi l'avete applicato, diciamo, per la prima volta in maniera molto chiara per datare un gioiello prezioso. Sì, abbiamo datato questo gioiello che abbiamo ritrovato in una grotta in Polonia, che si chiama Stania, che era adornato di 50 puntini, piccolissimo come lo vediamo, è bellissimo questo gioiello, piccolissimo così e sottilissimo. La cosa interessante di questa ricerca in realtà è che abbiamo rivoluzionato anche in questo caso un po' la storia precedente, perché tutti pensavano che i gioielli nascessero, diciamo, l'Homo Sapiens faceva queste boutique nel sud della Germania e poi da lì li portava in giro per tutta Europa. Invece, grazie alla datazione di questo gioiello di 41.500 anni fa, abbiamo capito che l'Homo Sapiens ha sempre fatto gioielli in diverse regioni d'Europa in modo indipendente. Ora, tu giustamente mi hai detto, io avevo il tarlo fisso di capire come, quanto e se avessero convissuto i Sapiens e i Neandertal. Perché è così importante capire e scoprire se effettivamente è così? Perché è importantissimo innanzitutto capire quando noi arriviamo in Europa e quando finalmente interagiamo con loro, perché dobbiamo capire che i Neandertaliani, che erano europei, vivevano in Europa da 300.000 anni. Ora arriviamo noi e a un certo punto loro scompaiono e noi siamo rimasti l'unica specie umana sul pianeta. Allora, che cos'è che ci rende così unici? Che cos'è successo tra di loro? Come mai questo? E questo lo scopriamo anche grazie al fatto di capire quando noi li abbiamo visti, quando ci siamo guardati negli occhi. E ovviamente questo con il radiocarbonio 3.0 lo possiamo. Si può, se state facendo evidentemente degli studi, delle ricerche. Esatto, anche perché con il radiocarbonio 3.0 abbiamo migliorato la curva di calibrazione, grazie ad aver trovato questi alberi fossili sotto le sponde dell'Oceano Atlantico in Portogallo, che abbiamo sempre pochissimo tempo per tirarli fuori, però ecco, questo ha portato a una nuova misurazione, le vediamo da queste immagini stupende, perché si vede una puntina piccolissima dell'albero e non lo scavare. Di quanti migliaia di anni fa? Questi hanno 30.000 anni fa. Era una foresta intera, fossile, che riscopriamo pian piano. E pensate che loro, per tirare fuori quell'albero, hanno poche ore perché devono farlo durante la bassa marea. Esatto, due ore. Eh, me lo ricordo questa cosa incredibile. Due ore e due giorni l'anno. Ha voglia scavare. Due giorni l'anno. Due giorni l'anno. Molto bene. Allora, cara Sara Talamo, Misurare la storia, io ve lo ricordo, è un libro molto interessante, che ci aiuta a capire meglio appunto la misurazione proprio della storia, come dice il titolo stesso. Ora, questo libro te l'abbiamo fatto passare, va bene, è nato qua il Kilimangiaro, però tu ci devi promettere che, dato che nel caso in cui ci fosse così, noi lo diciamo, la buttiamo lì, se dovessi ricevere una chiamata dalla Svezia, nel senso che se dovesse essere un odore di Nobel, noi del Kilimangiaro vogliamo una versione speciale, ovviamente. solo tu, guarda Camilla, solo tu potevi farmi questa domanda, però io dico, beh, una cosa. Siamo un odore, no? Cioè c'è una possibilità. Io dico una cosa, che bisogna continuare a sognare nella vita e i sogni vanno fatti in grande. Why not? E poi, come dico sempre a mia figlia e a tutti i miei studenti, punta alla luna per rimanere nel cielo di stelle. Eccotelo qua. Beccati questa e porta alla casa. Sara Talamo, grazie davvero per essere stata con noi.